Che il cane sia il miglior amico dell'uomo ormai su questo non ci sono dubbi e lo è anche per i reparti speciali di polizia, carabinieri, ricerca e soccorso e anche della guardia di finanza. Agenti molto speciali e dal fiuto eccezionale. Le unità cinofile sono impegnate con notevole successo nel contrasto al traffico di stupefacenti. Lo sanno bene al comando provinciale di Pesero dove a settembre ed ottobre sono arrivate due unità composte da un militare specializzato conduttore ed un cane di razza pastore tedesco. Dalla loro entrata in servizio Astor e Uro, i nomi dei due cani, hanno permesso di sequestrare 70 dosi di hashish e marijuana e 4 di cocaina e di segnalare all'autorità giudiziaria 3 persone per spaccio e 19 al prefetto per consumo di sostanze stupefacenti. Quindi queste due unità cinofile verranno impiegate in attività antidroga sul territorio pesarese di tutta la provincia. Quindi affiancandosi ai vari reparti presenti sul territorio pesarese cercheremo di andare principalmente in quelli che sono i luoghi di passaggio quindi ad esempio case elettostradali, stazioni ferroviarie dove c'è il passaggio, il via vai di persone che potrebbero comunque essere interessate ad un traffico di tal genere oppure luoghi di aggregazione, quali ad esempio locali di qualsiasi genere, piazze, qualsiasi luogo di aggregazione in genere in particolare anche le scuole. Sono stati presi infatti accordi con i dirigenti scolastici di tutti gli istituti superiori qui di Pesaro e della provincia di Pesaro in maniera tale da preventivare un impiego anche presso le scuole e cercare di fare repressione nel caso in cui ce ne fosse bisogno ma anche e soprattutto prevenzione in maniera tale da cercare di diminuire e cercare addirittura di debellare se possibile il fenomeno nel territorio pesarese. Stamattina sotto gli occhi ammirati di giornalisti e delle nostre telecamere Astor e il suo conduttore hanno dato dimostrazione della loro abilità setacciando prima una fila di borse dove non vi era nulla e poi un'altra fila dove era stata occultata una borsa contenente un manicotto imbevuto di una sostanza chimica innocua per l'animale ma simile allo stupefacente che non è sfuggita al fiuto eccezionale del cane. Naturalmente per lui è un gioco irresistibile e per i militari una risorsa inestimabile e preziosissima ed alla fine tutti in posa soddisfatti e orgogliosi.